Sai cosa non mi so immaginare? Io che porti i miei fratelli di noi a scopare? Cioè, forse mi immagino più mio padre che mi ci porta, te lo giuro Ma essendo stato a pranzo e cena tante volte con te, sapendo quanto ci tieni al posto dove stiamo andando Mi chiedi in quale bordello Questo è buono, eh? Questo è buono, c'è questa signorina che ha le coperte in cotone oceanico Un podcast morbidissimo Buongiorno e benvenuti alla ventunesima puntata di Cashmere, un podcast morbidissimo Non pago, non pago del fastidio della scorsa puntata, grazie mille Edoardo Buone sulle guadaline, mazza Buone, eh? Buone Beh, bravo, bravo che hai fatto questa cosa, l'hai fatta apposta perché sai che sono un amante Assolutamente no ASMR del cibo Ho avuto modo la scorsa puntata di farlo notare con una punta di acidità Nostro pregiato ospite Valerio, scusami tantissimo Ecco Mi dispiace, io ho un problema con le persone che masticano forte Un problema che non ho mai superato e tra l'altro ho letto anni fa che le persone che hanno questo problema in realtà sono più intelligenti degli altri Tu l'hai letto su Focus, quelle cose Quelle cagate che dicono se fai i gradini a 3 a 3 sulle scale sei più intelligente Sì, sei più intelligente, sì, 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 hai il senso dell'umorismo Se sei ironico vivi più a lungo Se sei Stephen Hawking sei più intelligente, quelle solite stronzate, siccome no Però occhio a come guidi Perché comunque Magari stiamoci attenti, esattamente Saluto a Steve che era molto intelligente e autoironico Come se fosse un tuo amico Esatto, beh più o meno E beh insomma no, patatine top, sei in forma? Patatine top, patatine molto buone Io vorrei ringraziare il nostro pubblico per il merchandising che ha acquistato con grandissimo calore Siamo felicissimi ragazzi Siamo contenti soprattutto che ne abbiate apprezzato l'estrema morbidezza E proprio per questo abbiamo deciso di rilanciare Perché? Per le nostre cashmirene Abbiamo fatto la maglietta da donna Con un taglio che mi va ad esaltare la femminilità, la bellezza, il buon vivere La body positivity E non abbiamo, non ci siamo fermati qui Non ci siamo fermati qui Abbiamo fatto anche il merchandising per i bambini Per la vostra prole, per la meraviglia, per il futuro del mondo Next Generation EU, Next Generation Cashmire Fare un figlio in Italia oggi non deve essere una delle cose più semplici che ci siano Ma nel momento in cui lo fai Vuoi che si senta parte di una community E noi gli diamo questa possibilità Mi sembra riparare come l'apo Elkan Gli stiamo dando la possibilità di far parte È una visione, è una visione La maglietta per bambini di cashmire è una visione Abbiamo pensato di rendere un bambino morbido Un bambino che si sente parte di un tutto Un bambino che nel futuro trova il suo posto nel mondo Attraverso l'ascolto del podcast Lapo, tu hai un progetto figli? Figli? Io? Figli? Guarda, allora Al momento sono interdetto Non appena potrò invece ricominciare a fare tutto quello che voglio Magari poi ci pensiamo Intanto ho pensato a un occhiale in fibra di carbonio Grande Lapo, ricordiamolo sempre Abbiamo già detto Mi assumo la responsabilità di queste parole Unico vero in una famiglia di falsi No, davvero Grazie mille per tutta questa cosa del merchandising Se la butto lì Come fanno quelli che i social li sanno usare Se vi fate la foto E ci taggate il cashmire podcast E ci dite se vi piace o non vi piace Diteci solo se vi piace Che vi piace dai E noi poi ve lo rilanciamo E vi facciamo fare la bella figura Ve lo condividiamo Siamo contenti E far vedere le vostre foto Che siete tutti lì morbidi, eleganti Con la maglietta in cotone organico E voglio dire Dai, che si sente la morbidezza della foto Siamo ben felici Un saluto al social media manager Che ci dà una mano Come si chiama? Non è hair, non è she C'è una social media manager moderna Come si chiama? Deir Deir C'è sempre una sva e un asterisco Sempre nata in provincia A Cernusca Chiaramente, sì Però comunque Oh ragazzi Scherzi, saluto Fede Grande Fede Allora, oggi Come, insomma Beh, diciamo che Se hai il merchandising di Cashmere Fai parte di una grande famiglia Stavo per fare un aggancio Eh? Come lo dici questo aggancio oggi? Siamo insieme Anche se manca Alice Alla quale oggi facciamo gli auguri Di buon compleanno Perché è il suo compleanno Auguri Alice Auguri che ci guardi Qualche giorno dopo Il tuo compleanno In realtà, ma va bene E oggi Oggi, però Mentre la puntata andrà in onda È il compleanno trentesimo Anche di mio fratello E allora Allora, auguri anche a Matthew Ravenna Che ci segue Domani è la festa dei lavoratori E allora Un applauso ai lavoratori italiani Lavoratori italiani Più grandi del mondo Più belli del mondo Eh sì Lavoratori italiani Lavoratori Citazione 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 De che? De cosa? De che è stata a parlare? Che è quel frascicone D'Arberto Sordi Che è fra Arberto Sordi? L'unico americano a Roma So io È il capo dei infami L'unico Travis Scott De Trastevere So io Ma che non è mai provocato? Te metto da parte E vado a mangiare da sfera E basta E ci metto la salsa barbecue Un bel roll Con i shesher Farro sano No non farlo Perché poi perdiamo il pubblico Che ci segue Cioè L'osservatore romano .com Che rilancia il nostro podcast Ogni settimana E noi li ringraziamo tantissimo Loro E grazie Anche il messaggero Il tempo È il secolo XIX Che ci seguono Con grande calore Carmelo Come stai? Parte della famiglia Se fossimo una famiglia Diciamo Ok Io e te chi siamo? Siamo una famiglia Nuova? Oppure mamma e papà Perché io sono la mamma Tu sei la mamma Tu sei la mamma Io faccio volentieri il papà Tahir è il nostro figlio Zero Per me voi siete i gemelli I gemelli I protagonisti La mamma è Cecilia Carmelo è il nonno ubriaco Carmelo è il nonno ubriaco Tu sei il figlio minore E Alice Dove la metti? E Alice? Alice è l'altra mamma Alice è l'altra mamma Ah Due mamme Due mamme Due mamme di due gemelli? Sì Siete voi due Ah ok Mi stai parlando di La famiglia è il tema della puntata Esatto Forse l'avrete capito Esatto Questa settimana E quando in Italia Si dice famiglia Esatto A famiglia Gammelo Subito risuona l'eco Di un altro tipo di famiglia Ma ne parleremo Ne parleremo dopo Tra poco Quindi una famiglia moderna Tu che sei un ragazzo Della generazione Z Hai mai avuto compagni di classe Con le cosiddette famiglie moderne? Perché non so tu Che siete Dimende Cosa intendiamo Famiglia arcobaleno Famiglia arcobaleno Genitori omosessuali Famiglia arcobaleno No Mai Mai Ancora non ci siamo arrivati Carmelo invece? Io no Però speravo di essere Speravo di essere Il genitore 3 Della Kashmir Family Eh c'è sempre un genitore 3 C'è sempre un genitore 3 Che di solito Quando viene scoperto Poi porta Allo scioglimento Della famiglia Ciumbia Eh sì Io sono genitore 3 No lei è il lattaio Dica la verità Queste battute Mi sa che sono proprio Da meme Delle chat di mio padre Però Quindi sono i migliori Quindi sono gli unici meme Fatti veramente bene in Italia Vogliamo ringraziare anche Il salotto della morbidezza E Carmemo avanzato I nostri mematori ufficiali Che ci danno grandissime soddisfazioni Ogni settimana E anche loro parte Della grande famiglia di Kashmir E' un'istituzione italianissima E' la istituzione E' l'istituzione per eccellenza Una repubblica fondata sulla famiglia Prima che sul lavoro Assolutamente sì Noi siamo solo la nostra famiglia E poi dopo siamo Della città da cui veniamo E dopo La regione La parte nord sud centro E poi siamo La famiglia Ma noi siamo A chi appartieni Di chi sei figlio A chi sei figlio Che sarebbe l'occasione Di poterla cancellare Nel momento in cui Io comunque ho già dimostrato Che non l'avevo torto Allora questa settimana Mi sono arrivati Almeno 47 messaggi Da figli di Ah tu sei figlio di Ettore Alberto Diego Guido Funziona molto spesso Così in Italia C'è un discorso È talmente tanto la nostra istituzione Preferita che ci abbiamo fondato Un sistema di valori È un sistema culturale Farlo sì Oppure usare la wikipedia Che provava a costruire Andrea Pezzi Anni fa Il dj di MTV Ah certo Lanciare wikipedia Prima di wikipedia Oppure Se ti ricordi Grande regalo del papà L'enciclopedia Gli aspetti di rom Ah come no Omnia Quando papà arrivava a casa Con Omnia E il futuro è adesso Posava questo pacchetto Di cd in camera Ed era tipo Apriva la porta C'era fuori Si vedeva questo fascio Di luce che entrava Un cyborg anni 90 E c'era Omnia E il futuro era arrivato Il futuro è supporto fisso E si vedeva la treccani Sullo scaffale Che faceva Oh no Adesso si libereranno di noi Tutto per Omnia Fantastico Ah io mi ricordo Il pomeriggio mio padre È arrivato con Omnia a casa Era veramente È come se fosse arrivato Robocop Improvvisamente L'hai mai aperta fai? Certo Io la usavo tantissimo Ma che scherzi Io la usavo tantissimo Ah c'era l'enciclopedia Che è lunga Grande con le lettere Le divisioni Eh ho capito Però ti devi arrampicare Sullo scaffale Far cadere poi le cassette L'unità Quelle ruoche Nascoste Sì sì Tra 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 Scendeva Mal Boom Tutta quella cosa No Omnia Era molto più semplice No io una volta Ho dato 5 euro a Wikipedia E ancora adesso C'è campo Cioè io ancora Tante volte Jimmy Waits fa la cosa Ah ci puoi aiutare Io penso Vai ma Vado a uscire un po' Nel 2003 Adesso mi stai chiedendo Trisodio a Jimmy Waits Per favore dai Dimmi piuttosto La voce Rolling Stones Mi cercare un attimo Quando è uscito Comunque no appunto Cercavamo su Wikipedia Per introdurre un po' Questa puntata Il tema Abbiamo cercato Il tema del familismo Amorale Ringrazio Alice Che ci ha fatto notare Io non l'avrei mai trovato Avrei solo guardato Famiglia e pubblicità Ah eccoci qui Barilla Le gocciole Ah questa giungla Mi sta uccidendo Allora mi sto rendendo conto Che sono solo un coglione Sulla scaletta Mette il link E non gli appunti Con le cose Perché ho scritto davanti Cioè se voi poteste vedere Qui c'è l'url Messo la stringa Come se noi potessimo Fisicamente cliccare No è perché Ho messo degli appunti Per te Nella scaletta No mi hai fatto bene Infatti poi sono andato Ad aprirlo Sono andato ad aprirlo E quindi poi dopo Non sono andato a cercare bene Insomma in soldoni In pratica Quella dinamica Tipicamente familiare Per cui si punta Solo esclusivamente A un vantaggio A breve termine Per il proprio nucleo Stretto nucleo familiare E non per la società Nella convinzione Che tutti gli altri Facciano la stessa cosa Ora Questa è una teoria Di Benfield Che era un sociologo americano Che andò in Basilicata Negli anni 50 E teorizzò questa cosa Si trovava a casa La famiglia Papaleo Questo è storico Sì 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 A casa dei Papaleo All'epoca E lui vide Appunto c'erano Questi piccoli bambini Fra di loro Che fanno Mamma Dobbiamo convincere Tutti quanti Che l'unica famiglia Siamo noi Agiamo nel nostro Interesse personale Tanto fanno Tutti quanti La stessa cosa Lui stava lì Che segnava Tutto quanto Torno in America Signora Papaleo Suo figlio È veramente Un rompicoleone Se l'ho imparato Ma mio figlio Ha l'ambizione Di fare il DJ Un giorno Sarà un grande DJ Internazionale Ma come mai Parlate tutti uguale Ora Signora Papaleo Come parla lei? Perché siamo tutti quanti Marelli Prati noi Questo è il motivo Si scherza Si scherza Si scherza Si ride Sì no Poi pensa Però è una dinamica vera Questa qua Nelle famiglie Nelle famiglie in assoluto Nelle famiglie italiane Però Si è visto anche Rispetto all'anno scorso Quando c'è stato L'inizio del lockdown Quella questione di Devo andare a fare Tutti i roti di cartigine No quello era in America Era in America Sparita la maionese Spariti tutti i beni Di consumo Semplicemente familiari Cioè dobbiamo avere Maionese e ketchup Le case degli italiani Gonfie Di rotoloni Regina Di pane Di lievito Pane degli angeli Come se dovessi Far lievitare Il salotto È facile dirlo Questo anni Poi è ovvio Che una mamma E un papà Si preoccupano Magari della famiglia O dei genitori anziani E magari non guardano A dire Non ne prendo 50 kg Di questi avocados Ne prendo 4 E tornerò Sai quando? Domani a prendere Gli altri 4 Perché ci saranno No no Quella è stata proprio Una manifestazione moderna Del familismo morale È vero Però di base Mi sa che Questo è proprio Il modo di fare L'importante Che mio figlio Faccia le sue cose A me non mi interessa Quello che ci devo dare E questo Oppure anche con altri accenti Ma comunque Mio figlio Adesso me lo piace Ma bene Mio figlio È deficiente È un coglione Io se dovessi dirti Un coglione A mio figlio Ma non c'è un posticcio In Morgan Stanley Come direttore finanziario Magari E mea magari Al volo Sono 27 miliardi di persone Ce ne faccio gestire io da lui Ecco io è contento Non avevo dei coglioni Quante volte Tahir Nella tua famiglia È stata applicata Questa legge La legge del Tutto per noi Tutto subito Dobbiamo ottenere Un privilegio Per noi Secondo me Anche una volta Tahir è talmente Tanto self made man Oddio scusate Ho detto mezzo Ora Sono ancora più studiato Comunque mai Basic beach Cioè mezzo Mezzo Calcola mai vero Mai vero Mai vero Sei una basic beach Nel 2016 Io dicendo mezzo Insomma ci sono comprato Le case Quindi sentiti Proprio tranquillissimo No in realtà Mai Cioè Nel mio caso Mai Poi in famiglia mia In realtà Ci sta tipo il bar Che è di tre Quattro fratelli Che si dividono Però Lo sappiamo Mai No 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 Ma me lo immagino Sono stato sempre Anora nera Ma no ma poi Tahir è proprio un esempio Di self made man Cioè un giovane Videomaker di successo Che non è Di certo non ha ricevuto Carmelo invece No non è vero No Carmelo Assolutamente Assolutamente no Tu però Vieni anche da una famiglia Numerosissima Vero Carmelo La mia Di primo grado No Però Quelle insomma Intorno Le costellazioni familiari Che ci sono Sono grandissime Il padre Nonno fratello Se non sbaglio Mi ricordavo infatti Tutti i cugini Ne ho 5-6 per famiglia E dove il primo Si chiama Carmelo avanzato Il primo si chiama Carmelo avanzato Che bello E' quello che fa i meme A Carmemo Sì sì A Carmemo infatti Senti Quando torni Nella vostra città A Natale Avete C'è quella dinamica tipica Del Ehi Carmè Come sta papà Che io la trovo Che è bellissima Perché noi poi Abitiamo chiaramente In centri urbani grandi Però magari Se abiti in un piccolo paese Il concetto Che tutti sanno I cazzi tuoi Della tua famiglia È frequentissimo Io ho smesso di andarci Ho perso i 16 anni In realtà Dopo quella cosa Che avevi fatto Dopo quella brutta cosa C'è un ricordo L'ultima volta Che sono andato lì Sono caduto E la prima cosa Che mi ha chiesto Un signor anziano Ma tu Sei figlio Queste cose qui E poi Mi ha consigliato Di pisciare Sulla ferita Ma questo non è Perché è arrivato A figlio Infatti Non ho capito Tuo padre C'ha un'urina Piena di ammoniaca Tuo padre Io questo lo so Carmen In paese Lo sanno tutti Ma te l'ha chiesto Di chi eri figlio Mentre stavi ancora a terra Sì sì Ok Sì Prendeva badilate in faccia Per le colpe Del padre Fatti vesciare in bocca Dal meduso Tuo padre Perché Scherzo Abbiamo parlato prima Insomma Grandi famiglie italiane L'Italia Si è liberata Di una grande famiglia Non so se ricordi Una famiglia che però Poi nella storia Dopo diciamo Che sono stati cacciati Ha regalato certi eredi Ma certi eredi Certi ballerini ragazzi Certi imprenditori Certi cantanti E l'allero È vero Tutti insieme In tante vesti In tante vesti I Savoia I Savoia Famiglia che noi salutiamo E sì Beh i nostri E loro salutano noi A loro volta Ho visto recentemente Emanuele Filiberto Ospite da Pio Amedeo E Erano molto più seri Più Amedeo di lui In qualsiasi cosa Dicesse Lui adesso abita a Parigi Ha detto in un appartamento enorme Da solo Ah perché è separato? Credo No È ancora È sposato? È sposato Ok Sì no Mi ha fatto Mi ha fatto uno strano effetto Più che altro Per me la cosa più bella Che lui ha fatto Nella storia È stato quando è andato a Sanremo E si è esibito con Pupo E il tenore Luca Canonici In un bellissimo pezzo Si chiamava Italia Amore Mio Certo L'orchestra Ha fatto la pagnolada Ha protestato Sì 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 Perché poi ci fu Vi ricordate Il problema del televoto Cioè sembra che si comprarono i voti Certo Cioè c'era stranamente Dal Perù Non vedevano l'ora Di votare in massa Italia Amore Mio DL Canonici Dalle Alpi All'Oceano Indiano Compreremo i voti Per un solo obiettivo Vincere Sanremo E vinceremo Pensa in Perù Sì stasera Io soi a chi Può dire al mondo E a Dio Italia Amore Mio Tututututu Li hanno fatti sembrare I più grandi cantetti Loro per una notte Siamo fatti tipo Sugar Man Capito Cioè è un gruppo Che nessuno conosce in Italia Ma in Perù Quei tre Veramente c'erano Cioè porca puttana Sulle piramidi Inca Tenevo Tota la gente Acá Tiene wind E quindi Tenevo wind Sì E ta due euro Por el messaje Sì Però son Dinero Muy muy Spedovien Tenevo Esa sim Con il simbolo Della monarchia italiana Però Non so Non so Perché Non so Perché Viva Vittorio Emanuele Segundo Re d'Italia Viva Verdi Viva Verdi Sì Da quel padre Che sparava Con il fucile A cavallo Ma tu pensarete Sugar Man E cosa fate però Con Emanuele Emanuele Fili Savonia Per fortuna Per fortuna Chi lo sa Chi lo sa Anche si dice Che pure il referendum Per appunto All'era o meno Questa famiglia A capo d'Italia Si è stato un po' Si dice Si dice C'era un bisogno superiore Ma chi l'ha detto Chi l'ha detto L'hanno detto loro L'hanno detto loro Dai fu Come quando Qual era Quale momento storico Italiano Non ha Otto letture Differenti Per cui Mi scuserà Tahir Ma vi ricordate Di quelle elezioni In cui a un certo punto Berlusconi Era un contro un Prodi Allora aveva perso E fece Presidente Com'è andata Brogli Tanti brogli Brogli Non voglio parlarne Tropi brogli Ed è risalito sul suo van Prodi lo sanno tutti Che è un farzo Sapeva pure dove avevano Nascosto Moro E nulla ha voluto Di chiaramente Quindi che Berlusconi Abbia perso contro di lui Per me è solo un vanto Morti nemici Mortono Tahir sa tutto di Prodi Ah riga Quando era presidente Dell'Iri Ha svenduto Tutte le aziende nazionali Mortadella C'ha avuto solo Erculo Che l'Ipi Gli ha fatto vincere Mondiale Quando era presidente Del consiglio Io a quest'ora Una collana La pagavo Trenta milioni Dell'Iri E non Trenta mila euro Se non era per Prodi Mortacci Sua E De D'Alema E dell'Uri Ma soprattutto De Occhetto Sto figlio De Ningrata Quindi io so Proprio Di estrema destra No Sei per Berlusconi Sei berlusconi Sandro Bondi Tahir Hussein Se ti va di scrivere Delle poesie Alla tua maniera Anche per il presidente Berlusconi Poi gliele inviamo Insomma Peraltro ci ascolta Quindi insomma Ma Sì Aspetta A me non è che piace Molto la politica Berlusconi No no Ma lo sappiamo A me piace la parte Dove scopa Il resto porta avanti Tutto fast forward La filosofia L'importante La filosofia Get rich or die trying Vuoi sentire una bella cosa Da boomer Che ti ho detto Ti è piaciuta questa Però me l'hai concessa Beh poi Altri grandi famiglie italiane I Borboni Che in realtà erano francesi Però con l'Italia Ci presero gran gusto Al sud Italia Si trovarono veramente bene Quale famiglia Nobile potente d'Europa Con l'Italia Non ci ha preso Un bel gusto Non lo potrei vedere Lo so D'altronde Siamo Siamo o non siamo È il principio del colonialismo Ma che cazzo vai a colonizzare La Malesia Se c'hai comunque In Mediterraneo A 800 km da casa C'hai il Cilento Che cazzo Te ne frega Te ne vai volentieri E ti stabilisci lì Eh sì Loro diciamo che al sud Sono ancora un po' sentiti Sono sentiti Se la butti lì Che ridere Madonna Mi fanno impazzire Quando vedi il partito monarchico E vedi Gli elettori del sud Del partito monarchico E tu pensi Questo ovviamente È il principe di Salina Cioè non è cambiato nulla Questi signori Con i baffi a manubro Che vivono in una rocca A Cosenza E che ancora votano Per il nostro print Che è letale Merita una monarchia Non bisogna assolutamente Questa democrazia Come il covid Non esiste Sì i borboni Vabbè croce delizia Insomma al sud Hanno fatto bene Hanno fatto anche Qualcosina di male Ma non siamo certo qui Per commentarlo Per giudicarli Assolutamente no Assolutamente Ci mancherebbe Ci mancherebbe altro Poi vedo anche Che è segnato un po' Delle grandi famiglie nobili Romane Sì Sicuramente non hanno fatto Lobbismo nel passato Colonna Barberini Orsini No 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 Assolutamente Assolutamente no Conosci degli eredi? No Non anch'io No non conosco Questo è bello C'è qualcuno che ci ascolta Che è iscritto Va tipo al circolo della caccia Cose così Ci sono gli eredi nobili Con cui ci si trova Si parla Al circolo degli scacchi Ma certo Se posso dire Trastevere è pieno Di queste duchesse Contesse Però sono tutte vecchi Ubriacone Che Al bar Alle otto del mattino A bere Faride che te sei Tipo quello Di quel personaggio Della grande bellezza Ma come avete fatto E' andare in questo palazzo Lui è il custode Diano le chiavi Di tutti i palazzi Di Roma E c'è stata La notte Che gioca A bridge Con le vecchie Tipo capito A palazzo Altemps A Roma Non si sa perché Sta lì Con le signore Che lo salutano Mentre lui Se ne va di notte Dopo aver fatto l'amore La vita Mi ha insegnato Che non c'ho più tempo Di fare le cose Che non mi va Di fare Ciao Tigre della Malesia E non andano via Dove Dove Il fatto che a Trastevere Mi chiamano principe Eh questo è bello Questo è bello A Tahir abita in un palazzo principesco Adesso non diciamo dove Perché poi C'è anche l'era Che poi ti arrivano i fan Esatto Però insomma Ti chiamano principe Vabbè me lo credo Ma quando scende Quando scende Da quel portone Dove siamo entrati noi Cioè io pure Mi stavo inchinando Sire Posso venire a esportare La puntata da lei Cioè comunque Ho un po' un senso Di Saranno le duchesse ubriache Che ti chiamano principe No no I conti I conti Perché le duchesse C'hanno più That's hot Più rispetto E contesse Sandokan Fammi vedere A scimitare Si sarcia Invece Niente Veramente Perché sono abituate Sono abituate A loro paretà Comunque Allora Io posso dire una cosa O non la posso dire Allora Le famiglie Arcobaleno A me La famiglia C'ha un padre C'ha una madre C'ha dei figli Ma chi sta imitando Io non sto imitando Nessuno Ti ho fatto caso che Io Da quando esiste Ogni volta che sento Un elenco Di qualsiasi genere E' uno E' due E' tre E' quattro E' cinque E' le campane E' le cose E' la lucania E' solo quella lì Va bene E la famiglia E' quella lì Ed è sempre E' stata così O no Per cui ho fatto la domanda Prima sui genitori Arcobaleno Perché sicuramente Fra gli ascoltatori Potrebbero essere Se non voglio Imperaggarmi In discorsi Potrebbero risultare Scivolosi Ma è solo It's the society Is changing E quindi Bene così Però quanto avrebbe fatto strano A scuola L'idea di All'epoca sì Oggi per fortuna No Cioè sta diventando Molto più normale Nelle grandi città Credo di sì Beh chi lo sa Ma secondo me no Anche nei piccoli centri Anzi Secondo me è più facile Lo dico assolutamente Con curiosità Nel senso che E' una dinamica Particolare Perché una cosa Tipica delle famiglie Non è solo Come si è dentro E' quella cosa divertente Ma anche come si Vuole apparire fuori Un classico E' parlare male De A I X I I divorziati Ah Lei è divorziata Poi scopri Capito Politici hanno figli Fuori dal matrimonio 46 figli 26 divorzi Secondo me Diverrà normale La famiglia Arcobaleno Quando vedremo La lancia Y Con la famiglia Stilizzata dietro Gli adesivi Sull'unotto L'avete visti? Certo Ah sì sì Certo E ancora non si è vista Una famiglia Arcobaleno Cioè ancora non ci sono Mamma mamma I figli Dai davvero Almeno io non l'ho visto Ci sono gli emoji Ci sono gli emoji Nell'iPhone Ma non ci sono Gli adesivi Da lunotto Facciamo qualcosa E poi ci sono Le grandi famiglie Imprenditoriali italiane Quelle che hanno reso L'Italia Il grande paese Che siamo E sai quante Di queste grandi famiglie Si occupano Di che ne so Tecnologia Sono affacciato Nessuna Tutte quante Ancorate Agli anni Ottanta Di questo paese Come idea Diciamo Ma sì Beh le grandi La vera aristocrazia Di questo paese I Ferrero I Prada Bertelli Ferragamo I Benettoni Berlusconi Gli Amadori Anche Pollaioli Da 15 generazioni E tu di quale famiglia Avresti voluto far parte Potendo scegliere Forse proprio degli Amadori Cioè essere comunque Il figlio di Amadori Digli Papà Mi presta 50 mila euro Questa sera Ma col cazzo Che te li do Ma veramente papà Non mi da 50 mila euro Che cazzo ti costa Parola di Francesco Amadori Solo per sentirlo dire questo Tu invece? Io Ovviamente La famiglia Berlusconi Ma non per discendenza diretta Ma Un ramo della famiglia Che finisce in altri posti Un'altra regione Qualsia Però siamo imparentati Quei Berlusconi Ah così Quindi Noi siamo Siamo i Berlusconi Però di Maggerada Esatto Siamo i Berlusconi Di Maggerada C'è stato mio zio ad Arcole Che ha fatto un sacco Di cuoce pelle Oh mi consenta Se non ci posso dire niente Io Siamo noi Le Marche Sono la regione che amo Cioè Qua c'ho la mia impresa La piccola mia impresa Tiò caro Voglio dire Andiamo a Milano Una volta ogni tre anni Ci invitano Per buona Sono intornati Quei coglioni Da macerata Guarda ti prego Donna Rosa Mi si chiama la mamma Di Berlusconi Neanche ci saluta Donna Rosa Sì sì Donna come stai Fatti stringere un pochino Allora Questi me li fate uscire Dal cancello Posteriore Alle 15 Zio Silvio Zio Silvio Sto Milano Sta sfondando tutto Siamo tanto felici Al Milan Club è fermo Sì bravo Bravo Piero Gianni Cazzo Si chiama Questo qua Va bene Ora non lo vai a chiamare Siamo tutti Bravo bravo Ugi ci fa Chi c'ha a noi Tra l'altro poi Chiedendosi anche Come facciamo ad essere Parte della famiglia C'è chi si è chiamato Il maestro Questa letteronza Maceratese Che poi ha Che poi in linea Di successione Noi siamo I Berlusconi I Macerata I Macerata C'era una Erano gli anni Neanche lettero Drive-in Drive-in Anni passati Esatto C'era una drive-inina Una drive-inina Ci siamo giocati A pari dispari Aveva Inizio Greggio Aveva Dicevano Le lettere un po' gutturali Ma mi divertiva molto Quella cosa lì La signorina Vabbè Non diciamo Ma chissà Ma Ecco Ovviamente Scherzo Quindi tu Amadori Amadori Fa ridere questa cosa Che in effetti Le grandi famiglie italiane Si occupino O di moda In realtà Non ne stiamo parlando Di una La famiglia La famiglia The family E sai cosa ti dico Non parliamo Perché erano rotti i coglioni Esatto Mi stiamo anche facendo Un po' troppa pubblicità Un po' troppa pubblicità Voglio dire Poi c'è il rischio Che gli si alzano le azioni Per quanto ne stiamo parlando A cashmere Quella bella Crestina lì Esatto Esatto Cari i nostri Noi gli unici agnelli Che ci piacciono Sono quelli per fare il cashmere Anche se non si fa con gli agnelli Con gli agnelli Con gli agnelli Un po' duro Credo Però 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 Beh Poi c'è stato il lockdown Che per molte famiglie È stato un po' forte Un po' forte Si è parlato molto Di chi l'ha vissuto da solo Da sola Si è parlato molto Di chi l'ha fatto in coppia Si è parlato molto Di chi si è lasciato Durante il lockdown Esatto Ma non si è parlato abbastanza Del coraggio Della forza Delle famiglie italiane Di qualsiasi genere Che si sono trovati in casa Figli adolescenti La peste bubonica Peste bubonica Peste bubonica Figli di dieci anni Si Che magari scoprono gli ormoni A dodici Esatto A dodici Almeno stanno tranquilli Un cesso solo in casa Mamma mia Occupato venti ore al giorno Da quella di dodici anni O figli anche di cinque Quattro anni Figli di cinque Che giustamente Magari Non ne ho idea Però magari Vanno fuori controllo Proprio mentalmente A un certo punto E un grande applauso Alle famiglie Ai padri Le madri Che hanno tenuto Che veramente Ce l'hanno fatta E che ce la stanno facendo E che ce l'hanno fatta Perché veramente Era fortissimo Guarda io Mi ha fatto impressione Vedere il video Che ha pubblicato recentemente Dei rossi Con la famiglia in dad In cui si vedevano i figli Che ciascuno Su un diverso computer Faceva le cose Tanta la lezione Però appunto De rossi è una situazione Credo un pochino Più privilegiata Rispetto alla media italiana Immaginiamoci In una famiglia normale Cosa è significato Stare per due mesi Bloccati dentro casa Con i figli A marzo e aprile 2020 È un po' forte Un po' sì Un po' d'attenzione Poi c'è il bambino Di cinque anni Che vive con Peppa Pig Ogni giorno Cioè la colonna sonora Del tuo lockdown Ed è la parte migliore Della sua infanzia Perché poi passerà A me contro te Esatto Quindi è la parte migliore Ringrazierai Di quando ancora Non c'era lo slime Guardate Già cartoni di Cioè immagino Cartoni di Disney Cosa interattive Peppa Pig è tipo Dei colori Dei colori Sì Vabbè Tanto però Quei colori hanno anche Dei suoni E tu stai finendo Di lavorare In call Yes No we did the brief It's okay Pin 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 Ma che cazza Iolio È una bambina Di due anni Che ti guarda Ti vede tutto il giorno Che sta il cellulare Arrabbiato Perché sapete Come fa la sigla Di Peppa Pig No me la si è inventata No no e la parte dopo invece sarà con due imprenditori straordinari che sono la coppia di me contro te un pochino ancora più martellante slime da lontano la bambina vola via dalla finestra ma terra comodamente su dei sacchi dell'immondizia non si fa male e la famiglia può gioire nel ritorno a casa sempre in casa poi hai tua moglie che bussa la porta cioè Matteo basta con quella doccia alla quarta doccia della giornata ti inizi un pochino a insospettire su questi 13 anni di tuo figlio Matteo e su whatsapp scrive l'amico mi sono fatto un buccato nel pisello con le unghie facendo troppe pippe facendo troppe pippe no io no ho perso, ho caduto per te adesso e puoi uscire dal bagno cosa stai guardando? sto vedendo The Mandalorian tutta la sera tutto il giorno o anche l'isteria che hai quando sei un adolescente non puoi uscire ne hai un altro di 18 anni dentro casa figlio o figlia che l'unica cosa che vuole fare è scopare dalla mattina alla sera o drogarsi o drogarsi col suo fidanzatino o fidanzatina e non può perché è tappato dentro casa però sai cosa può fare? e la volta in cui esce si prende il covid e te lo porta dentro casa ti fa questo regalino ti poteva portare un pasticcino ti ha portato il covid sai cosa può fare però? cosa? può girarsi verso i genitori e trovare in loro i suoi nuovi migliori amici ma certo ma certo il genitore amico parliamo infatti della figura del genitore amico no guarda mia figlia per me mia figlia è un'amica e scopatela cosa succede in questi casi? se l'amica l'amicizia è proprio un dono non esiste scopatela e poi ne parliamo quanto è importante che il genitore sia genitore? quanto non ci crediamo in questa amicizia genitori figli? posso dirlo che crescendo non è importante è fondamentale fondamentale cioè sì proprio sì genitori amici avere un padre che non c'è tutto vuoi picchiare vuoi ucciderlo e lui vuole uccidere te esatto perché è un rapporto paritario è lui che ti insegna che ti vuole uccidere certo ovviamente e una madre e una mamma che ti deve giustamente rompere il cazzo a suo modo se sei femmina molto se sei figlio molto meno molto meno ma molto meno ma molto molto meno Italia Italia e ogni scarrafone bello mamma soglia che bello essere maschi figli di mamma in Italia veramente effettivamente sai come poteva andare peggio? se nascevi femmina era l'unico modo ovviamente nel rapporto con la mamma nel rapporto con la mamma sì nel rapporto col papà però invece nasce la femmina sei assolutamente privilegiata e quanto conta il papà in casa? fucking zero fa tutto la mamma e continuamente si confronta col marito per dire che il figlio è meglio di lui e tu ascolti questa cosa quindi è uno che ti odia l'altra che ti ama il bello è che i rapporti cambino ma effettivamente col seno di pai non è sempre facile che un genitore mantenga quella punta di non so direzione è molto difficile è molto difficile ma penso che sia anche bello per un padre per una madre avere avere un rapporto di amicizia e poi crescendo con i figli però crescendo è molto facile diciamo superata la soglia critica è facile e in adolescenza in adolescenza no in adolescenza è pesantissimo dai in adolescenza è molto pesantissimo io invece non mi ritrovo per niente in quello che state dicendo perché? perché se tuttora non sono un tossicodipendente dalle droghe pesanti è proprio perché per il bel rapporto che ho con mia madre che è riuscita a indirizzarmi sulla strada giusta visto che ho visto cose molto eh ma mica ci stiamo dicendo il contrario noi voi stai dicendo che era l'amicizia no vabbè noi stiamo dicendo che diciamo in un rapporto quando c'è appunto un padre una madre in casa tu sei un figlio maschio generalmente il padre litiga molto col figlio maschio mio padre boh non lo so non ho mai litigato non ho mai stato presente a casa è appunto per quello e quindi evidentemente con tua madre hai sviluppato un rapporto diverso molto meglio ma meglio così infatti tua madre ti ha fatto diventare il videomaker di successo e la persona di successo che sei oggi sarà felicissima delle cose che mi stai dicendo perché comunque c'è avuto un figlio che ha lasciato scuola a 14 anni però comunque viste tante altre strade che hanno preso i miei coetanei gente che conosco mi è andata bene perché alla fine quello che conta è l'affetto è l'amore che sia col bastone o che sia con la carota ora ho paura ora ho paura di chiedere del rapporto genitoriale fra Carmelo che ricordiamo ai tempi aveva anche il maestro che veniva a casa come no certo e che gli dava delle bacchettate sulle nocche se sbagliavano scendeva dall'asino lasciava l'asino fuori e portava due bisacce con i pomodori il basilico e il latte e poi insegnava a Carmelo in effetti si aveva un rapporto abbastanza formale vecchio a scuola diciamo con i tuoi si come quello che avevano i nonni bisnonni i ricordi che ho i momenti padre e figlio è quando mi portava a lavorare la terra diciamo che è la passione proprio di mio padre fa per piacere no però è il lavoro è un noto è un noto agronomo è il tono con cui lo dice esatto il problema è che per hobby si è fatto un oliveto immagina per hobby e non vuole usare il trattore perché dice è così bello e quindi vai Carmelo a piantare gli olivi beh e invece no chiediamo a chi noi siamo fratelli maggiori chiediamo a chi ecco ha una sorella minore il gioiellino finale la l'ultima la ciliegina l'ultima sorella la 500 elettrica con due fratelli maggiori come sta a dire ti sei sempre sentita ti sei sempre sentita protetta questo è quello che ti hanno detto l'ultima è l'ultima generalmente il nocino è finito il nocino è finito via qua via qua e andavo e andavo vecchia stronza e andavo e hai quella situazione e però le migliori vengono fuori così le migliori vengono fuori così che cosa hai detto che non ho sentito che le migliori vengono fuori così no stavo dicendo una cosa bella è finito davvero questo padre ma in realtà io so perché me l'hanno detto dai miei da Duccia che mi voleva mio padre mia madre no perché stava a posto con due figli certo ho detto sto poi soprattutto il suo terrore era pensa se nasce il terzo maschio si sparava te credo invece mio padre ha insistito ha insistito ed eccomi qua quindi insomma ma ti sei sentita sei sempre cresciuta protettissima con due fratelli maggiori o erano cacacazzi i tuoi fratelli maggiori no no non particolarmente cioè mi sono sempre sentita io ti sto facendo domande come se fossi una passante come se non conoscessi come se non fossi mia moglie ci chiamano quei due con dei cognati sì no però non ho avuto diciamo un'infanzia che uno pensa i tuoi fratelli maggiori che ti costano allora Cerciglia nulla di vita anche perché conoscendo i tuoi fratelli abbiamo visto fuori dal Giulio allora sali fuori dal Giulio sei salita in macchinetta un SH50 grigio devo dire che su alcune cose sì cioè comunque un occhio c'era sempre anche per questo il fratello italiano maggiore che controlla la sorella noi abbiamo delle credenze e delle certezze voi come sareste stati come fratelli maschi maggiori pessimi se invece di Matteo fosse nata non lo so Maria adesso Maria ha 30 anni sta in Portogallo capirai a prendere l'MD tutto il tempo durante il covid non che mio fratello stia facendo questo ti sprovavi tutte le amme di tua sorella che a un certo punto diventavo l'insopportabile fratello di Maria adesso però basta adesso basta va bene io che palle c'è il pesce gatto madonna che due coglioni sì no che ti racconta che ha fatto il centro sperimentale ma perché parli con la centro romana se sei mia sorella vabbè questa è una stare lunga è un'altra cosa no pesce gatto perché mi ti immaginavo perché sto sul fondo i pesce gatto che stanno sul fondo e puliscono l'acquario ma pure tu se invece di Tommaso fosse nata non lo so Virginia mostra 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 esatto no sarei stato no sarei stato un fratello molto tollerante molto tollerante però poi quando ti portavo a casa arrivo salve 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 che fascistello capito cioè con le sopracciglia abbassate da quanto aveva portato la scodella capito salve salve ciao Mirko ma vi zietto ciao noi guardiamo sempre i video di esami avemo visti me fa morire arrivederci salve macchina la tua macchina nella foto così e questo è una famiglia questo è il bello e io che chiamo mia madre allora quel ragazzo lì a me non piace per niente sia chiaro sia chiaro che quello lì per caso non lo voglio più vedere ma sarei stato molto liberale e democratico dai io non ho idea so che l'altro giorno ho sentito un vocale di uno dei miei migliori amici che sua figlia è nata un anno fa in pieno lockdown adesso lo ha fatto un anno e lui ha detto in questo vocale e diceva figa io sono sempre stato molto milanese sono sempre stato molto tranquillo usavo la paternità però figa adesso mia bimba c'è capisce tutto mi sto carichendo addosso vabbè comunque c'è ancora un vent'anni di tranquillità venti perché così tanti ne hai dodici di tranquillità se ti va bene se ti va bene dodici poi se forse mi hai messo a parlare d'altro quello deve essere difficile vedere crescere i figli da che sono i tuoi figlioletti e vedere che a dodici anni sono delle merde che ti odiano ti insultano fanno tutto quello che possono per farti per farti incazzare quello non deve essere facile per quello in questo periodo deve essere stato inferiore almeno non puoi neanche dire ma vai fuori dal cazzo vai fuori non puoi dire no devi stare a casa a vedere cosa vediamo amazon disney plus disney plus la quantità di ore di cartoni animati consumate durante il lockdown per ipnotizzare questi figli mamma mia non deve essere stato facile veramente se avete figli raccontarcici le vostre esperienze di lockdown con i figli arrivati a questo momento della puntata avremmo dovuto parlare delle famiglie mafiose italiane ma qualcuno ci ha sconsigliato di farlo e ha anche intossicato Tair come avvertimento però vogliamo fare una provocazione perché qui sembra che si giochi sugli stereotipi che al sud siano niente oggi ragazzi Tair è inservibile inservibile sta boicottando la puntata fingendo un malessere uè muschio selvaggio allora chi sei uè alleggi con la Kenzie vai a prendere aria Tair bravo lascia lascia ce la larga lasciacelo qua il covid ecco vengo io la rubagli il lavoro tutti i tamponati così stai inquadrando tutti e due sembra che stai puntando tutti e due ah siamo tutti e due no come fa inquadrare tutti e due è una stretta vengo no 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 fa un casino addirittura vieni con l'intervento se no facciamo esatto sì dottoriar due minuti signori una cosa mai vista a cashmere podcast carmelo avanzato ha preso il posto di Tair Roussein alla regia video in questo momento ciao a tutti gli tremano le mani come se Tair stasse fotografando Travis Scott gli rovino pure la fotografia guarda tutte quante cose che dà senti raccontaci della tua infanzia a Trastevere Tair ma diciamo che però mi donavano sempre delle collanine quindi ero contento con cui ci ho pagato che ormai l'ho querelato all'interno della sua medesima puntata ci la posso fare sì non penso sia impossibile se lo fa Tair tanto non ci sento tanto non ci sento scherzo Tair dove sei? dai che poi ti ritrovi questa cosa qui nel montaggio e ce la vuoi tagliare dai lasciala e basta non è che poi ti vendichi noi siamo vabbè adesso siamo una una ho cercato di seguire la scaletta sì torniamo su cose che conosciamo forse meglio delle famiglie mafiosi le famiglie mafiose tu ne conosci? io no di famiglie mafiose però magari sì in realtà che differenza c'è fra una famiglia che fa lobby al nord e una famiglia che al sud fa un altro tipo di lobby un po' più spettacolare molto poca tanto è vero che le famiglie mafiose sono state oggetto di rappresentazione in un milione di libri film serie tv da Gomorra i Sopranos cioè la famiglia mafiosa è un un gruppo fortemente identificato anche a livello narrativo i Sopranos tu l'hai mai vista? io non l'ho mai visto sì un po' al cosa ho visto non tutta la serie ho visto purtroppo studiavamo visto l'inizio la prima stagione e il finale dell'ultima stagione mentre studiavo diritto amministrativo 2 al centro sperimentale c'era qualcuno che faceva cose e no Gomorra si coltivuì una rappresentazione spettacolare ah ecco la rappresentazione della famiglia per esempio la famiglia in Italia certo la famiglia vabbè Gomorra adesso continuano a scherzarci per far ridere si diceva che no da un pessimo esempio ai ragazzi che vogliono essere come loro come i criminali del Gomorra molto rire io spero che nella quinta stagione tipo muoiono tutti salvastano tutti 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 rimane solo un parente allontana che vive a Milano c'è un ragazzi figlio è arrivato l'ambrogio comunque hai descritto esattamente quello che succede oggi nelle famiglie mafiose cioè i figli vengono mandati a studiare nell'università per diventare poi quelli che fanno veramente il business o in benvenuti al sud però divertente che nervosismo ragazzi sempre che dovete stare su di giri ma bene stavo meglio prima stavo meglio prima ma perché stavi peggio no raga c'è solo della tosse cioè sembra che c'hai la tossaccia però ma tu tu tossisci perché sennò Carmelo ti ruba il lavoro commentate anche dopo due giorni dell'uscita della puntata così se ti risponde vuol dire che è ancora vivo e va bene così no diciamo la rappresentazione delle famiglie la famiglia felice la famiglia felice la famiglia felice è da sempre un mazzo della pubblicità italiana perché poche cose vendono bene come una famiglia felice certo credibile realistica sempre ti identifichi subito quando vedi queste mamme turbofregne bellissime che hanno tempo di svegliarsi dopo aver fatto un bel bocchino al papà esatto perché comunque i valori familiari sono certi e si si parte così mentre lui sta facendo la doccia pensando a quanto ama la moglie lei prepara la colazione per tutti i ragazzi esatto i bellissimi tre figli questi tre figli ariani ariani con delle facce di una cattiveria spaventosa che però associamo a il pan di spagna facce durissime ma associate al pan di spagna una cucina che dà l'idea di far parte di una casa che sarà sui 5-600 metri quadrati 600 metri quadrati la cucina da sola costa 280 mila euro cucina l'area perché la cucina in sé siamo sul milione e mezzo sul milione e mezzo quella parte in quadrata sono 200 mila euro e c'è la mamma che ha preparato poi peraltro c'è sempre un cestino di vimini nel quale ci sono queste merendine industriali che però sembrano essere state fatte in quel momento lì e infatti mi chiedo sempre ma perché se ha tutti quei soldi non le prende la pasticceria che è più buona ecco cioè esatto se vivi in una casa da 600 metri quadrati ma perché compri le cose a supermercati che passione perché non mandi Corazon a prendere le briochine a comprare la briochina sotto al pasticcere come succede nelle famiglie di quel tipo è perché non si può raccontare quella roba lì e c'è sempre questa mamma esatto che ti prepara questa collezione poi peraltro non si sa in quale città d'Italia ci sia quella luce lì alle evidentemente 8 di mattina anzi no forse alle 7 e mezza quando entrano i bambini a scuola alle 8 quindi c'è quel fascio di luce che sembra diciamo Helsinki a luglio come idea c'è quel tipo di luce e la mamma che prepara nessuno mai discute nessuno ha il cellulare nessuno nessuno ha Peppa Pig davanti nessuno ha rovesciato per terra il secchiello con lo zucchero in un milione di frantumi nessuno sta ascoltando Radio 3 nessuno sta whatsappando con una catena di amici che mandano foto di bocchini fatti da trans nessuno si vogliono tutti bene in quella famiglia nessuno si lamenta per l'odore della cacca del papà in bagno nessuno nessuno questo è tutto perfetto stamattina casualmente non so perché se avevo voluto vedere la pubblicità della fiat croma e c'è proprio una famiglia del genere dove di sera mentre il bambino guarda la tv arriva una telefonata al quale il padre nemmeno risponde pronto praticamente gli alieni gli portano di sera una fiat croma ed è una famiglia bellissima alla quale avrei voluto far parte io non l'ho sentita questa pubblicità non l'ho ancora vista infatti non l'avevo dimenticata è su youtube ha una pubblicità vecchia questa si si sarà dell'85 gli alieni sono gli agnelli e la famiglia felice è una famiglia del centro sud Italia alla quale gli alieni portano un modello di macchina di me ho comprato la croma io non la comprerei mai ha già 400.000 km questa croma la vendiamo nuova con 400.000 km comunque costa tantissimo comunque è un ricordo avvocato ma lei macchine che produce per carità c'ho la ferrara io ho il ferrara non ci sono mai salito poi c'è perdone ma tu hai visto come sei seduto come sono seduto laterale ma questo è l'atteggiamento che ho tutti i commenti saranno su questo tu hai lo schienale qua in quadratura no tutti i commenti saranno a regà Tair c'era covid questo è il commento ho già detto ma non sono io che sono seduto male sei tu che mi stai inquadrando storto Tair per cortesia per cortesia per cortesia la famiglia Barilla la famiglia Barilla Barilla che ne ha avuto ti ricordi qualche tempo fa piccolo problemino la zanzara ad un altro podcast di cui non facciamo il nome me l'ho appena fatto no si che diciamo la famiglia è di un certo tipo per l'Italia poi gli hanno detto attenzione ragazzi allora le ultime pubblicità della Barilla sono un po' più open mind ed è un po' più si vede questa coppia di ragazzi omosessuali che tornano e c'è tutta questa storia il padre non accetterà le tue scelte però poi gli fa provare il fusillo la farfalla la farfalla e il figlio che voglia di farfalle che ho a figa padre e figlio come si fa in un certo tipo in Italia e come si dovrebbe tornare a fare io mi ricordo io mi ricordo aspetta scusami questa piccola parentesi esiste questa cosa di andare si andava a prostitute imparare col padre ah certo si 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 can you picture this moment with your father jesus christ please please eh no no c'era si faceva papà ti portava a mignotte per la prima volta con le signorine beh anche i fratelli maggiori lo facevano sì forse non mi so immaginare io che porti i miei fratelli in noi a scopare cioè forse mi immagino più mio padre che mi ci porta te lo giuro ma essendo stato a pranzo e cena tante volte con te sapendo quanto ci tieni al posto dove stiamo andando mi chiede in quale bordello questo è buono eh questo è buono questo è buono c'è questa signorina che ha le coperte in cotone oceanico si lava le mani sempre sta lì che ti sciacqua le palle prima guarda veramente credimi credimi che andiamo da lei non mi far vedere che vai da quelle signorine lì io mio fratello l'avrei portato ma guarda alla figa fine è in un campo non so se sa dove l'avresti portato poi l'avrei portato io e dopo allora Matteo scusa Luca adesso ti porto io insomma delle signorine adesso stiamo scherzando ovviamente su una cosa su una pratica che esiste che esiste ancora esiste ancora esiste e voi conoscete persone che sono state portate dai papà senza fare nomi o cose ma conoscete si diceva di un mio amico che il papà lo portò c'è un'idea di persone si diceva di cioè a 18 anni ti porto vabbè ma pure prima conoscendoli players gotta play qual'era un po' tipo ah sei andato bene a scuola sei stato trovato no era a un certo punto quando papà vedeva che ti eri fatto home ti portava a sto punto vabbè scusa fra madre e figlia non c'è la stessa cosa ma scusi ma non è uguale e dai un po' di parità anche in questo mia madre che parte bellissimo dovrei mandare a trombare io e mia figlia va bene pensavo invece che la madre la portasse a prostituirsi no questo non credo che sia mamma mia Carmelo se non ti fai tagliare un intervento a puntata non sei contento no guarda questo invece lo teniamo proprio per far capire il tenore della roba che tagliamo nelle altre puntate poi alla fine ci sarà un director's cut di Tahir alla fine è vero la famiglia Barilla no rispetto alla polemica sulla famiglia tradizionale che disse Barilla mi ricordo in America le foto dei VIP che tipo buttavano non so il pacco da 500 grammi però dentro ha dell'acqua calda con del sale esatto no adesso vai un bel sugo pronto esatto oh my god I'm at rich Iana I love it cari amici Barilla più che pensare alla rappresentazione delle famiglie per vendere il prodotto pensate un po' di più al prodotto e non parlo della pasta parlo dei sughi che ti lasciano un'acidità che ve la raccomando eh lo so secondo me era l'olio can it della sera prima che ti lascia l'acidità e il sugo Barilla è l'ultimo dei tuoi problemi e dato Ferrari l'avete comprato sotto banco io non me ne so ma guarda poi ti ricordi cioè la famiglia Boccasana è la famiglia Boccasana anche lì fastidiosissimo che schifo no poi tu hai scritto la famiglia Sanagola ma non me la ricordo secondo me volete dire la famiglia Boccasana yes ho sbagliato la famiglia Boccasana non mi risulta la famiglia delle gocciole che si sveglia nella giungla e anche lì persino nella giungla la famiglia ritratta hanno comunque padre madre le figlie bianchi bianchi come al solito padre fichissimo madre rompipalle sì bambini bambini anche loro cioè persino lì nella giungla era sì sì padre fichissimo moglie rompipalle è credibile padre fichissimo e moglie rompipalle bisognerebbe sapere cosa succede sotto quella capanna sull'albero la sempre secondo me il papà si prende qualche libertà e anche la moglie sinceramente vi ricordate quella pubblicità tutti a tavola che era forse o della simmental o dell'insalata con la la figlia più grande che mangia solo un'insalata e il bambino più piccolo che fa vuole fare la modella non è filadelfia era filadelfia con kaori forse era filadelfia quella sì che era una pubblicità che vendeva come quelle che citavi tu di saratoga kaori la ragazza alla pari la ragazza giapponese alla pari che quello ti fa subito vedi filadelfia lo so ho in casa una giovane ragazza di origini orientali che ed era quello lì vuole fare la modella penso di sì ma ci faranno sapranno correggere invece c'è la famiglia nella fiction che tanto vende e tanto piace al pubblico perché la famiglia è proprio il prodotto che piace a grandi e piccini l'unico modo da tenere appiccicati tutti è o quello o l'Italia un medico raccomandato in famiglia i cesaroni i cesaroni i cesaroni a generazione una villa nel centro di Roma nel centro di Roma facilissimo ma è un format quello era un format spagnolo sì tipo sì los hermanos erano di Barcellona e di Madrid dove si trovavano invece in quell'italiano erano di Roma ma famiglia i cesaroni serve altro bellissimo io avevo pensato se i berlusconi fossero stati i cesaroni Silvio era Amendola chiaramente Marina era la Mastronardi Pier Silvio era Branciamore Paolo Berlusconi era Max Tortora ma chi era Antonello Fassari questa è la vera domanda beh potrebbe essere Emilio Fede potrebbe essere Caltagir non Caltagir confalonieri confalonieri o Galliani oppure molto meglio Dell'Utri è certo è vero è vero non c'è problema te metto lo stalliere te sistemo la questione ah sì te devi fidarmi bello ti metto così no c'è un medico raccomandato in famiglia perché questa è stata più tipica più divertente come storia come vera fiction Giulio Scarpati racconta un momento vero lui ha un padre che l'ha raccomandato è medico al Policlinico Umberto I il padre che l'ha raccomandato è Lino Banfi che stava nel partito socialista italiano bellissimo c'è proprio il garofano qua esatto io ti posso assicurare che mio figlio è molto bravo sta prendendo questa laurea in endocrinologia tu lo fai diventare primario e io non ti preoccuparti do il resto del Policlinico diventa tutto quanto tuo è una raccomandazione poca due sono troppe due sono troppe quella sarebbe stata una bella una bella stata con la moglie di Scarpati ah no era morta la moglie di Scarpati nella serie non mi ricordo mi sa che era la moglie a lui gli morì la moglie sì sì per quello che è interessante la storia era diciamo un po' il capo famiglia Scarpati lavorava tutto il giorno non c'era più la mamma sì 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 poi però trova un'altra compagna e trova un'altra compagna e si chiamerebbe un medico infamissimo e poi c'è vabbè io da piccolo guardavo Casevianello certo famiglia moderna loro due anziani senza figli ma con una presenza di filippini ereditieri che come barracuda si muovevano per quella casa spolverando e controllando l'ingresso del notaio ogni giorno Ivianello adottarono le persone che lavoravano con loro filippini e quindi queste persone poi ereditarono tutta l'immensa fortuna di Ivianello ti dirò una minchiata io saputa questa storia ho capito cosa significava l'adozione che a proposito di famiglia è un gesto molto complesso ma anche molto molto cioè banalmente solo complesso non saprei cosa dire però bello beh certo un gesto molto generoso generoso quindi grazie alla fiction italiana che ha raccontato questi momenti di verità e poi c'è la famosa frase tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro ogni famiglia infelice è infelice a suo modo che è una celebre frase di Luciano Gaucci perché i grandi scandali italiani legati alle famiglie che hanno rovinato tutto avevano dei patrimoni immensi e poi fra di loro si sono truffati sono scappati a Santo Domingo i cecchi gori i cecchi gori esatto quelle dinastie poi ci ha pensato lui un imbuto chissà che motivi c'erano non lo so più invecchio più cerco di non giudicare queste Vanna Marchi e sua figlia ecco quello invece si può giudicare ci dimentichiamo Vanna Marchi e sua figlia quello un po' si può giudicare turlupinare persone anziane degli anziani si vendergli i sali per fargli parlare con la cognata morta e passare questo talento chi vuole parlare con la cognata morta tra l'altro ah sono tornate sono tornate veramente beh questo c'è tutto il giro delle nobili le romane che si sputtano ma scusa che altro hanno fatto non mi ricordo avevo letto una roba non so se addirittura si sono aperte tipo un negozio di quelli di abbigliamento bruttissimi però online quasi in televendita ah pensate la roba brutta ah no vende dei corsi sul marketing a dei prezzi fuori di testa tipo 5000 euro tre videocorsi di un'ora dove c'è lei seduta sul divano di casa con la webcam del computer che parla se devi vendere questo sale questo sale per parlare con tua madre questo sale allora fai vedere innanzitutto quanto è bello che la nuova parte questo va bene pure per la pasta numero uno c'è proprio roba che in realtà non so perché in Italia non se ne stia parlando cioè lei che ti dice se tu sei una donna come ti devi truccare per vendere i prodotti come ti devi vestire questo è un po' offensivo se posso dire che devi essere seducente tutta questa roba scusa in Italia non se ne sta parlando tu come l'hai scoperto dal Pakistan vabbè nessuno sa di questi corsi in realtà come vuoi essere come ci sei arrivato io non ho visto nessun meme io su questa roba io ci sono arrivato tramite un video di Yotobi ah ok vabbè allora vuol dire che è già un argomento diffuso scusa ma vi ricordate invece poi il mago Donassimiento mago Donassimiento il quale poi però scappò mago Donassimiento è scappato prima della sentenza certo certo è diventato parrucchiere bravo striscia l'aveva trovato striscia striscia era andato allora mago Donassimiento ma l'Italia più corti sui lati li lascia sopra lunghi ci sono delle famiglie che odi che quando le vedi dal supermercato la strada all'aeroporto dici mamma mia quanto vi odio va le famiglie di arrogan no ma non che li odio che non mi piace vedere magari i rapporti che hanno con i figli non mi piace vedere il padre distratto mamma che si fa i selfie figli appiccicati all'iPad che non parlano fra di loro ancora peggio sai quei padri tipo devi chiedere scusa a tua sorella vieni qua che strattonano i figli quella cosa mi fa schifo è terribile vedere i padri un po' violenti e l'altro giorno però ho visto una cosa che mi ha un pochino intristito cioè ho visto due genitori da Tiger forse da Tiger avevano lui le Balenciaga lei le Balenciaga e la figlia aveva tipo le scarpe che erano Alexander McQueen e vedere queste tre persone che chiaramente non si potevano permettere quelle scarpe tutti quanti con quelle scarpe mi ha un pochino messo un senso di precarietà eh lo so però questa ricerca spasmodica dello status symbol mi inquieta quando poi lo vedi nelle famiglie sì ma non penso che sia una cosa dei nostri tempi cioè è un caso che le hai trovati vero è un caso non credo che sia un atteggiamento diffuso assolutamente no però mi ha colpito perché era veramente gente che viveva cioè se tu comunque decidi di comprare a tua figlia delle scarpe vere o finte di Alexander McQueen pagandole quella cifra poi per carità ognuno con i soldi fa quello che vuole però secondo me un occhio in più un occhio in più e allora stiamo andando verso la conclusione volevo chiederti sì se secondo te è vero esiste o meno il fenomeno un fenomeno legato alla famiglia della cosiddetta raccomandazione dico cosiddetta perché che cos'è la raccomandazione scusa quel sistema diciamo quella pratica per cui qualcuno che ha delle conoscenze alza una cornetta come si diceva un tempo e fa una domanda a un'altra persona che ha del potere e chiede una disponibilità magari chiede solo un consiglio tipo cosa faresti fare a mio figlio oppure arrivano a proporre il figlio in una certa posizione sfruttando la loro posizione sociale ci sono delle situazioni in cui arrivano a proporre il figlio o la figlia sfruttando la loro posizione sociale anche non in cambio di favori anche sfruttando semplicemente il nome è una cosa te lo dico in Italia avviene quindi perché io invece avrei detto non in Italia come prima cosa cioè non avrei pensato avrei detto più una cosa magari non so della Scandinavia allora sicuramente anche lì succede però dici succede più spesso in Italia sì in Italia c'è un po' questa tensione e anzi spesso è una cosa che diciamo anche solo mentalmente blocca certi processi nella testa di molti ragazzi e ragazze giovani perché pensano se esiste un fenomeno marginale penso che non credo sia una cosa che ci interessi molto ci sono facoltà università in Italia in mano alla stessa famiglia da decenni cioè come se fosse un'impresa familiare ci sono lavori che sono in mano lavori proprio cioè lo fanno solo loro tre famiglie e basta e finché si tratta di fare i remi delle vongole delle gondole va benissimo va bene ma quando poi tipo che ne so la butto lì forse tu il mondo del doppiaggio no ma non credo che succeda dici che sono sempre loro oh sì secondo me ci sono dei concorsi pubblici ci sono proprio una cosa che tu lo vai a fare che insomma ti proponi quello no adesso sono io che penso sempre male si vede che leggo troppo internet leggo internet giuristi del 1951 cioè sono imprese di famiglia ma sì beh un pochino intristisce quando lo vedi nella pubblica amministrazione questo è che un pochino si inquieta beh anche nel mondo io parlai con gente che mi disse che poi io so qua grazie a mio padre che mi ha messo qua nel 74 hai capito cioè ma dicendotelo come se t'avessero detto capito ho fatto un concorso motivo di vanto motivo di vanto come no sì sì no per molte persone perché sembra una cosa carina in Italia capito sembra ma te pare mio padre faceva questo te pare che io non lo faccio uguale è capitato anche a me lavorando per certe cose di sentire persone dicevano ma a me qua mi ha messo mio marito è certo è certo ma non c'è un foglio in cui si firma qui e si dice non ho parenti le so comprare la seconda cassa e però però è così la real life in molte in molti contesti è così intristisce quando vedi appunto quando leggi le storie appunto del barone universitario che mette lì il nipote il figlio il bisnipote in barba a qualsiasi ad anni di studio di edizione mette veramente molta tristezza anche quando lo vedi nel mondo della creatività tipo film cose sì vabbè nei gioielli no ma non fra famigli no 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 attenzione ah certo gli orafi vabbè però gli orafi sul ponte vecchio forse possono fare come gli pare nel senso cioè no il mondo dei gioielli è tutto solo sull'accomandazione ah sì anche per iniziare il fornitore te conosce tuo padre certo tuo nonno e tutto anche lì il familismo è questo abbiamo parlato all'inizio è il vantaggio sul breve termine non l'idea della società lo sconfiggeremo mai questo male ma certo che ce la faremo ce la faremo partendo da qui da cashmere podcast che si è imposto di ecco bravo esattamente da cashmere podcast perché una famiglia può essere bella o brutta questo non c'è ombra di dubbio ma c'è una cosa che si fa in famiglia nel bene o nel male che è sempre apprezzata ed è un regalo può essere un abbraccio può essere un bacio può essere un gesto d'affetto oppure può essere proprio un bel regalo e lo potete trovare i regali migliori sul nostro sito di Merchandising cashmere podcast shop punto ideo con la y punto it regali apprezzati per tutta la famiglia per papà per la mamma per il bambino abbiamo le cover del telefonino con cui si guarda Peppa Pig abbiamo abbiamo fatto il cuscino su cui può dormire abbiamo tutto signori veramente diventiamo insieme una grande famiglia oggi e continuiamo ad esserlo anche domani cashmere podcast podcast dal 2020 grazie consigliamo di acquistare consigliamo di acquistare grazie Carmelo grazie Daír grazie Luca grazie Cecilia ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata di cashmere grazie a tutti i nostri Mo Botha grazie a tutti i nostri Mo